Ben trovati su Trip TV e siamo arrivati al 7 marzo, domani è l'8, la festa della donna, ma è anche la giornata per lo sciopero nazionale dei servizi pubblici, quindi chiaramente ci saranno un po' di disagi in tutta Italia, anche a Civitacchi ovviamente la CSP ha comunicato che aderirà allo sciopero generale, quindi sciopero indetto contro la violenza maschile sulle donne e dei femminicidi, contro ogni discriminazione di genere e contro le molestie nei luoghi di lavoro e contro la precarietà e la previtazione del welfare. Questo è il tema nazionale a livello locale, CSP garantisce i servizi essenziali, io spero che nei servizi essenziali sia compreso il ritiro della differenziata nei mastelli o dell'immondizia nella parte della città, che ancora non è partita questa benedetta differenziata. Quindi questo è il punto per domani, poi altre situazioni sono dettate sempre dal comune, si susseguono comunicati servizi di qualunque genere, c'è sempre il problema dell'acqua, servizi sociali, arriva la cartella sociale informatizzata e così ce lo dice l'assessore Lucernoni ai servizi sociali. In più ci sono novità per i parcheggi, quindi i parcheggi blu, il 4 marzo scorso è stato dato sempre la delibera commissariale 91 del 14 maggio 2014, cioè 5 anni dopo, tenete presente le date perché a noi ci fanno ridere, e quindi che prevedeva la nuova determinazione delle tariffe che prevedeva la sosta a pagamento. Allora, gratis, io sintetizzo perché è un comunicato ferraginoso, gratis si parcheggia presso il tribunale e presso il parcheggio dell'ospedale, questa è la novità. Poi invece, intorno al mercato ci sarà il pagamento dalle 8 alle 20 e non fino alle 13 e sarà una tariffa a tempo, meno stai e meno paghi, in parole povere, cioè si pagherà 50 centesimi per la prima ora, come è adesso che si paga 50 centesimi sempre, 1,50 euro alla seconda ora, 3 euro per la terza e dopo la terza tariffa giornaliera di 6 euro e non più 4 come fino prima di questa determina. Quindi questo è il saluto che dà l'amministrazione, una determina commissariale del 2014 che si rende attiva adesso in un momento un po' di caos e quindi si dice di dare seguito, però ci saranno altre considerazioni che verranno sottoposte a giorni all'aggiunta comunale per un'ulteriore proposta di modifica della delibera già approvata. Quindi voi pensate un po' che gazzarra che ci sarà su queste tariffe e quello che ci sarà. Radio Cittadinanza a Civitarecchia tutto tranquillo, non ci sono grosse problematiche, poi per quanto riguarda la presentazione di Enrico Zappacosta, candidato di Lega e Forza Italia e anche di Polo Civico e dei Fratelli di Civitavecchia perché Vitali e Cacciapoti sono usciti da Fratelli d'Italia. Noi siamo una coalizione aperta anche a nuovi ingressi, quindi questo ce lo dice il candidato a sindaco Enrico Zappacosta. Poi altre tasse, altre situazioni, la tassa di ingresso a Civitavecchia, semplificazioni per venire incontro alle esigenze degli operatori. Ora ci aspettiamo delle collaborazioni, questo ce lo dice il consigliere dei Cinque Stelle Cardinale. Tassa di ingresso, arriva un'agevolazione e semplificazioni. Lo rende noto Piazza del Pincio, le nuove tariffe saranno avviate a partire il primo maggio, quindi c'è ancora un po' di tempo per attuarle. Quindi le nuove tariffe danno quindi un'agevolazione, un corretto dialogo tra istituzioni e uffici del comune responsabili del vettore. Ricordiamo che sui PULMA, che stiamo parlando di questo, che sono entrati a Civitavecchia non ha pagato quasi niente nessuno, cioè tutti così abusivamente. Qui c'erano previsti anche degli sgravi per per chi rispetta l'ambiente come gli Euro 6 o gli Euro 5, mentre per quelle classificate categorie inferiori a Euro 4 ci saranno dei rincari. Quindi poi andremo a vedere chi sarà, chi non sarà, chissà chi si fa a controllare. Comunque, questa è la situazione, sono avviate e da domani, proprio 8 di marzo, si avviano le celebrazioni per il 150esimo anniversario della morte del Civitavecchiese Luigi Calamatta. Noi lo conosciamo per la scuola, i ragazzi, la via, quello che volete voi, ma è stato un Civitavecchiese. Domani alle 16 a Viale Garibardi si avrete posto una collora d'ororo al busto dell'artista. Poi presso la chiesta di San Giovanni di Dio in piazza Calamatta, dove verrà presentata una stampa celebrativa realizzata da Arnaldo, Massarelli, e verranno esposti alcuni lavori degli studenti del liceo artistico. La sala conferenza biblioteca ospiterà la mostra con le riproduzioni di opere del Calamatta. In questo caso gli studenti dell'alberghiero ospiteranno un aperitivo da loro stessi ideato. Anche la società storica Civitavecchiese ha organizzato per sabato mattina alle 11 una breve cerimonia commemorativa, sempre nei pressi della tomba del cimitero monumentale di Via Aurelia, c'è il cimitero vecchio. Poi ci saranno altre situazioni. Luigi Calamatta è stato indubbiamente uno dei nostri concettatini più illustri, ci commenta il presidente della società storica Enrico Ciancarini. Celebrare la sua vita e le sue opere in una ricorrenza così significativa significa ricordare un'ottima occasione per ricordare la necessità della conservazione della memoria storica, elemento essenziale per preservare nel tempo l'identità culturale della nostra città. Quindi questa è un po' la situazione. Rimane aperta la querelle tra Emanuele Rarosa, presidente dell'Agraria e altre associazioni sulle minacce degli usi civici che porterebbero la perdita della casa per i civitavecchiesi. Detto questo, queste sono situazioni che affronteremo nella prossima settimana. Vi abbiamo ricordato un po' tutto, vi ricordiamo che poi continua questo porta a porta tra mille difficoltà e soprattutto tra un fiorire di mastelli, cioè i secchioni di plastica che sono adibiti a conferire le raccorte differenziate per tutta la città. Sicuramente non è un bel vedere, ma così siamo. Alla prossima!